cari amici di the wine channel il natale è tempo di festeggiamenti e di brindisi e oggi questo brindisi voglio dedicarlo a voi a voi e ai vostri cari perché possiate passare un felice e sereno natale sperando che sotto l'albero possiate trovare il regalo che più desiderate intanto io vi ringrazio per il regalo che voi mi fate con le vostre visualizzazioni con le iscrizioni al canale le condivisioni dei miei video e i commenti nella pagina facebook nel canale instagram e qui sui video di youtube vi ringrazio ancora e ricordandovi che nonostante le occasioni di festa bisogna bere con moderazione ma di qualità vi faccio ancora i miei auguri da francesco e da the wine channel alla prossima